musica 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 emm...se se se decisamente sono pazzi ciao a tutti ragazzi io sono forum e benvenuti in un nuovo video allora prima cosa che volevo dirvi è che mi sono un po' potenziato come dire e questo qui il livello 3 campione prima era arrivato al livello 2 cioè guardiano e adesso sono arrivato al livello 3 campione facendo un sacco di missioni secondarie si aumenta di livello quindi purtroppo non ve l'ho registrato perchè non ho fatto tempo a riprendere tutto altrimenti ve l'avrei messo come avrete visto in anteprima del video c'è stato un piccolo cambiamento che dire ho liberato la parte rossa che era qui ora volevo sistemare 1 e 2 e possibilmente anche 3 nella prossima parte faremo la missione perchè volevo liberare prima queste parti per poi andare all'attacco quindi io dico di non di non indulgere troppo ah vediamo se ci possiamo potenziare si che possiamo potenziarci allora colpo alla testa e questo ragazzi ci interessa quindi lo prendiamo oppure origine karmica benissimo e io dico di farlo perchè è meglio utilizzare tutto quanto per non rimanere a secco si oppure va bene possibilmente facciamo tutto ragazzi facciamo tutto ok fatto ecco qui bastardo mica t'ho visto maledetto ecco qui brutti guardoni esatto oh sono in un'aria non merda via devi sparire chiaro anche tu eh non aspettavo che tira no prima ragazzi prima le telecamere come ho detto nello scorso nella scorsa parte quindi occupiamoci prima delle telecamere perchè mi danno un fastidio atroge ok ce ne manca zero perfetto la gente passa come se niente fosse comunque andiamo a liberare questi e volevamo allora oh un secondo perfetto perfetto ottimo e che cacchio è che cacchio che mi da un po' di fastidio ah tu sei muori fuori tu oh oh ragazzi sbaglio ho sto primo sacco di ko oh oh alle spalle cretino tu mi sa che voli perchè passi da una parte all'altra attenzione ok se continuiamo così oh oh ko attenzione vediamo se riesco a prenderti no ok ottimo per quanto la testa eh benissimo ah ci metti anche tu ci metti ciao bello ciao bello non sarà una passeggiata eh ragazzi ci vorrà un bel po' per liberare questo posto oh volevi fregarmi ok lo sapevo accidenti c'è il tribellatore come si chiama benissimo ok io non so come oppure si so come liberare questo posto ragazzi è solo che mi serve un po' di tempo perfetto no maledetto tu perchè no dalle spalle il bastardo adesso a me più via proprio addosso ci sono andato grande ottimo tu devi stati fermi chiaro è chiaro perfetto è chiaro per lui ottimo cecchini? si ma hai detto cecchini però no cosa potevo fare? sotto missione grande ora stai fermo la squadra ha perso un uomo muto bibistario muto ti ho visto bello c'è per te come si io non sono andato il bastardo e... non è un uomo non è anche un uomo non è un uomo ma si ma si non è un uomo non è un uomo ma si non è un uomo ma si ha un uomo E questo quartiere è liberato. Ok, comando mobile, l'LDP distrutto. Benissimo. Prendiamo i frammenti, anche se abbiamo tutto potenziato. E finalmente possiamo... Oh, per pochissimo. Vai. Occupiamoci prima di quello. Allora, vediamo se appare. Sì, eccolo lì. Ottimo. Ho fatto un po' di allenamento riguardo la mira, ragazzi, e mi trovo abbastanza bene. Ragazzi, sapete cosa vi dico? Questi due graffiti ve li faccio in live, giusto per passare il tempo. Ah, un corvo. Benissimo. Non credo che dovrebbe essere nero, ma... Dettagli. Ah, ok. Mi ha sentito, comunque. Ah, ci ho fatto la sfumatura e bianca. Ok. Un uomo, un'idea e una bomboletta spray. Bello. Davvero bello. Ops, DOP. Scusa, non ti avevo visto. Tranquillo. Mi raccomando, non bastatevi qui che altrimenti vi graffito l'ha fatto. Stavo scherzando, comunque. Non si dice graffito, ma... Era un modo ironico. Comunque, Delsin è un artista nato, ragazzi, eh. Guardate, cosa sta facendo. Tipo, io ho visto altri graffiti che ha fatto quando non registravo, praticamente. Ho visto un sacco di immagini davvero fantastiche, proprio da mozzafiato. Che come se fossero vere, guardate. Vabbè, distruggiamo questo. Possibilmente lasciando stare i cittadini, maledizione, distruggiti. Ok. Ok. Ora, andiamo qui. Ragazzi, arrivo lì e poi riprendiamo. Ok, ragazzi, rieccoci. Allora, addentriamoci lì dentro e distruggiamo tutto, possibilmente. Sperialmente le telecamere che ci torcono. Sfortuna. Forse qualcuno ha allarmato qualcuno molto più. Eh, sì. Eccoli lì. Vabbè, tanto dobbiamo pure fare la festa, no? Non fa niente se siamo noi ad aver... Avrei iniziato. Dai! Oh! Meno me che ci sono le mappe. Eh... Sì? Prendita, perfetto. Non fa niente. No! Addosco! Non l'avevo proprio visto. Dai, su, 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 su! Accidenti! No, l'ho mancato di brutto. Prendi questo. Qua ci... Proprio... Moriremo per... Per distruggere questo... No! Accidenti! Dappertutto sono queste cose, ragazzi, eh. Eh, io ho potuto spiegare... Quasi! Oh! Riprendiamoci qui. Sì, ragazzi, ci vorrà un bel po' qui, eh. Ah! Distruggi... Almeno una, almeno una, porca miseria. Almeno una. Avanti, avanti! Cerchiamo di fare noi check-in, ragazzi, eh. Ok. Siccome gli altri lo fanno con noi, perché no... Perché noi non fallo con loro? Ah! Eh, però quello gigante li prende sempre. Non so perché. Non è morto. Per fortuna. In testa! No! Allora, ragazzi. Facciamo così. Occupiamoci prima del grosso. Sei morto. Non ci credo. Ok. Lo so. Anche lui mi sembra vero. Oh! Oh! Accidenti, ragazzi. Questo qui ci fa davvero sudare. Ok. Dovremmo andare piano piano. Ma... Per niente. Per niente. Non c'è chi. Non c'è chi. Non c'è chi. Invece che mi ha le spalle io. Com'è? E' bello, eh. Eccomi. Oh! Eshot. Telecamera che... Da molto fastidio, questo. No, è una persona Ok Tu devi morire, è chiaro? Eh, dov'è? Ah, eh Ok Ah, ecco ragazzi, ecco un altro Un altro graffito che ho fatto Quando non registravo Muori, perfetto, ne manca uno E a te ti faccio venire così Che te ne pare? Bello, eh? Secondo quartiere liberato Ottimo, comando mobile del DOP distrutto Benissimo Ok La precedenza ha prima i frammenti ragazzi Oh, sta scappando quel bastardo di... Vieni qua Vieni qui Grande Ok ragazzi Eh... Io direi che nella prossima parte Vi libero io queste parti qui Perché sono un po' noiose Quando dovremmo liberare Un sacco di quartieri Quindi è un po' noioso Quindi nella prossima puntata Vi farò vedere che questa parte qui È liberata E pulirò pure questa parte qui Eh, non è che... Ah, vediamo un po' i frammenti Se possiamo fare qualcosa No, nulla, nulla, nulla Ok L'altro frammento dov'è? Sembrerebbe essere sparito È qua su Bastardo Ok ragazzi Io la parte la termino qui Se il video vi è piaciuto Mi piace Secondo commento Iscrivetevi al canale Forem vi ringrazia E ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi